Prima riunione operativa sul patto per la falce dopo la ratifica dell'accordo sopra intendenza comune autorità portuale ai referenti regionali Nicola Barbaraccio e Pippo Morano sotto il coordinamento dei vertici dell'Ateneo hanno fatto il punto sulle azioni a breve e a lungo termine sull'imminente demolizione dell'inceneritore sulle attività propedeutiche rispetto del cronoprogramma stabilito dal patto per la falce. Nella riunione di oggi sono stati esaminati i punti all'ordine del giorno previsti, una era quella di ratificare l'accordo avvenuto tra il comune e l'autorità portuale. Il secondo punto riguarda invece la fase di avanzamento di quanto previsto nell'articolo 3 al comma 1 e sostanzialmente si è preso atto diciamo di qual è lo stato di avanzamento, si sono esaminate, si è preso atto del fatto che comunque ci sono già le consultazioni fra autorità portuale e regione e con soddisfazione si è verificato come dire che c'è un pieno rispetto dei tempi di attuazione rispetto a quanto previsto nel patto per la falce. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!